Nel 2012 altri rincari arriveranno per le famiglie lucchesi, si parla di aumenti delle bollette, aumenti del trasporto, insomma aumenti generali che graveranno sulle tasche di noi cittadini. La situazione della povertà a Lucca qual è? Con questi aumenti anche che sono verificati negli anni passati è aumentata la fascia delle persone poveri e sta includendo anche quelle persone che prima si potevano considerare di un ceto medio. Sì, è proprio così, purtroppo anche nell'ultimo rapporto che noi abbiamo presentato dove i dati analizzati erano i dati risalenti al 2010 si avvertiva questa tendenza che nel 2011 ha continuato e che purtroppo già adesso nei primi giorni dell'anno vediamo che si sta approfondendo. Vale a dire il fatto, quello che abbiamo chiamato un orizzontalizzarsi della povertà, se prima coloro che venivano ai centri di ascolto Caritas quindi anche chiedendo delle risposte che erano risposte di prima sopravvivenza, il pacco spesa, aiuti appunto sulle bollette, sui consumi proprio minimali della casa, appartenevano a un ceto estremamente diciamo medio basso o basso della popolazione. Adesso cominciamo a vedere anche persone che pur avendo un lavoro, magari anche lavorando in due, non riescono più a far fronte alle spese quotidiane. A questo si aggiunge l'approfondirsi delle situazioni di povertà di coloro che già si trovavano in difficoltà. Quali sono secondo te le soluzioni che potrebbero essere adottate e qual è lo scenario secondo te che si prospetterà anche nel futuro? Nello scenario che si prospetta per il futuro già lo vediamo abbastanza chiaramente. Il fatto che adesso già alcune persone che hanno finito il sussidio di disoccupazione e non hanno poi trovato una nuova occupazione che li abbia ricollocati sul mercato del lavoro, ci vengano a chiedere aiuto, ci dice che una delle prime emergenze sarà sicuramente quella occupazionale. Non riguarda soltanto i giovani in cerca di prima occupazione, le giovani coppie che magari avevano dei contratti poco stabili come contratti a progetto, quindi che li hanno poi lasciati su una strada, ma riguarda soprattutto la fascia di lavoratori intorno ai 45 anni che nel momento in cui si vengono a trovare in cassa integrazione hanno difficoltà estrema a ricollocarsi. L'altro scenario di difficoltà e di emergenza è sicuramente quello della casa, su due fronti. Da una parte coloro che si erano messi nell'impresa di acquistare la prima abitazione, non hanno più corrisposto alle rate del mutuo e quindi hanno perso la casa per pignoramento e ora si trovano a dover cercare un affitto che spesso non riescono comunque a pagare. Dall'altro fronte abbiamo il fronte degli sfratti, che cominciano ad essere veramente molti e ai quali anche comuni con gli strumenti di cui si sono dotati non riescono più a far fronte. L'altro, diciamo, grinale secondo me di crisi di emergenza è quello dei pensionati che avevano delle pensioni minime o pensioni sociali, eccetera, che oggi stanno andando anche nei centri di ascolto parrocchiali a chiedere il pacco spesa. Quindi siamo veramente alla prima sussistenza, alla sussistenza alimentare. Non parliamo quindi delle spese mediche e così via che molto spesso semplicemente non vengono più affrontate, aprendo proprio dei baratri di solitudine e di disagio molto grandi. Se mi chiedi delle risposte, noi ci stiamo abbastanza, diciamo, sforzando anche di trovarne di nuove. Secondo me è interessante il dialogo che si è aperto con le istituzioni, con le fondazioni bancarie, eccetera, nel comprendere che le risposte tradizionali che venivano date anche dal welfare normale, diciamo, dei comuni e così via, non sono più adeguate. È necessario cercare dei percorsi nuovi, percorsi in cui operiamo anche uno welfare di iniziativa. Andiamo a cercare le persone prima che le persone si presentino da noi e intercettiamo la povertà prima che diventi veramente miseria nera. Grazie a tutti.